Sembra proprio opportuna questa la musica sinfonica, soprattutto l'intro, devo dire, di Baustelle, dall'amore e la violenza, 13 gennaio 2017, Warner Music Italia, alle 10.37.50 per introdurre questa seconda parte, ma soprattutto per introdurre il mio ospite, sono veramente felice di tornare a dare il benvenuto e a conversare con Danilo Baccarani in collegamento con noi. Ciao Danilo, buongiorno, bentornato. Buongiorno a te Francesco, grazie per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Arabia. Allora, musica sinfonica che serve a introdurre quello che il ragionamento che avevamo anticipato, avevamo cominciato a fare anche una settimana fa e che concludiamo oggi intorno alle Paralimpia di 2024 di Parigi. Ovviamente, insomma, si sono sprecati aggettivi, ragionamenti, secondo me, per fortuna, devo dire, rispetto innanzitutto alla densità, devo dire, emotiva, ma anche, come dire, anche semplicemente, squisitamente sportiva di queste Paralimpia di 2024. Ma per venire anche ai fatti di casa nostra, insomma, una fraccata di medaglie, devo dire, per usare un termine tecnico, 71, se non sbaglio, 2 in più rispetto a Tokyo, 24 d'oro, 10 in più rispetto a Tokyo e poi ci sono anche le medaglie d'argento, le medaglie di bronzo. Io, insomma, mi sono perso dentro un delirio, in realtà, di medaglie, ma insomma, mi rimane ancora addosso l'emozione di quei giorni, insomma, è finita da pochi giorni, ma in ogni caso, Danilo, insomma, partiamo da qui, proviamo a fare un bilancio di queste Paralimpia di 2024 molto, molto emozionanti e molto, molto interessanti, devo dire, anche, Danilo. Allora, sì, l'abbrivio me lo dai su quello che è il bilancio, che per la nostra spedizione è un bilancio straordinario, secondo solo a quelle delle Paralimpiadi di Roma del 60, svoltesi in tutt'altro momento storico e sociale, ma abbiamo superato le 69 medaglie di Tokyo 2020, come dicevi tu, 10 medaglie d'oro in più, poi il dettaglio magari lo andiamo a rivedere con argenti e bronzi, però lasciami dire che più delle medaglie, che sono state veramente tantissime, io ogni giorno sui vari siti mi guardavo l'andamento e era un profluvio, veramente, era quasi impensabile, nel senso buono, ecco, che si potesse arrivare a tanto, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto una grande edizione, più di quello però dicevo c'è il fattore emotivo e il fattore anche, lasciami dire, più importante ancora, che è quello di aprire una finestra sul mondo delle disabilità in generale, più che altro perché questi atleti scompaiono poi per altri quattro anni, di cui noi sentiamo parlare magari per caso, adesso mi viene in mente Bebevio, Bebevio è diventato un personaggio invitato in vari talk show, si è spesa in maniera piuttosto importante per tutta una serie di cause, ovviamente è diventata poi un personaggio pubblico che se vogliamo è un bene, poi vabbè ha fatto pubblicità, insomma è diventata visibile, ecco, mentre molto spesso per quattro anni rischiamo di dimenticare quelli che sono stati dei veri e propri eroi, lasciami dire, non solo sportivamente parlando. Io parto da un'immagine però che mi è piaciuta tantissimo e che si riallaccia anche alle Olimpiadi e che fa parte per fortuna, o meglio speriamo che faccia parte della cultura sportiva di questo paese. La chiusura è stata l'8 settembre se non ricordo male e a chiudere diciamo l'edizione come al solito nella corso della cerimonia di chiusura sono state chiamate a portare la bandiera due atlete che sono arrivate quarte. Questo è un segno... Questa la dice lunga, la dice lunga. La dice molto lunga. Sono arrivate quarte, tra l'altro Domiziana Mecenate nel nuoto e Ndiaga Denghe nell'atletica leggera. Io devo dire che questa cosa è anche se vogliamo un monito, cioè non viene premiato solo il merito, viene premiato lo sforzo, viene premiata la fatica, viene premiato tutto quello che c'è intorno a un quarto posto olimpico o paralimpico che sia e che fondamentalmente mi piacerebbe evitare queste separazioni nette che ci sono. Come ho già detto la scorsa settimana, mi sarebbe piaciuto moltissimo che le Paralimpiadi aprissero il solco della manifestazione principale, come viene definita quella olimpica, ma ti dirò di più se non fosse per una questione di organizzazione perché immagino che gli atleti paralimpici meritino e abbiano necessità differenti, sarebbe bellissimo riuscire a unire le due manifestazioni contemporaneamente. Questo sarebbe la summa totale. Quindi siamo partiti da un quarto posto, da due quarti posti che fanno portabandiera, le medaglie sono state 24 d'oro, 15 d'argento e 32 di bronzo, sesto posto nella classifica generale delle nazioni, ha una sola medaglia d'oro dal Brasile, ma non dimentichiamo i 26 quarti posti. Possiamo parlare di questi quarti posti che raccontano una realtà vera, cioè che l'Italia è lì, è attaccata al podio, vuol dire che è tra i primi al mondo rispetto a performance, a prestazioni, a capacità atletiche. Posso esprimermi in questo modo o sono fuoristrada, Danilo? No, non sei fuoristrada, anzi lo abbiamo già detto per quanto riguardava le Olimpiadi, noi abbiamo raccolto in tutto 46 quarti posti, 26 nelle paraolimpiadi, 20 con gli atleti olimpici, sono 46. Vuol dire che il nostro movimento sportivo in generale è vivo, vivissimo e questa è una cosa molto importante perché ricordiamoci sempre che tra un terzo posto e un quarto posto ci passa niente, ci passa un battito d'ali, di una farfalla veramente per fare una citazione, ma il punto è proprio questo, cioè la profondità del movimento. Il movimento paralimpico invece, che profondo è perché ha portato medaglie con 12 sport, però io leggevo l'altro giorno una cifra che mi ha veramente spaventato, devo essere sincero, perché il nuoto ha vinto qualcosa come praticamente la metà delle medaglie perché ha portato 37 medaglie complessive, cioè vuol dire che il nuoto è stato il motore trainante di questa spedizione. Poi abbiamo conquistato medaglie per la prima volta, mi sembra, nel il taekwondo e nel sollevamento pesi se non ricordo male, ma lasciami dire che all'interno di tutte queste vittorie poi ci sono veramente miliardi di storie. Adesso noi parliamo solo degli azzurri perché per brevità e anche per partigianeria diciamo, però 4.500, quasi 4.600 atleti paralimpici da ogni parte del mondo sarebbero 4.600 storie da raccontare con le loro difficoltà, con le loro bellezze, con i loro sorrisi. Io sono rimasto veramente estasiato dalle interviste post gara, io non so se tu le hai viste, erano qualcosa di eccezionale. Se posso dire quello che penso rispetto anche ai post gara e alle interviste in questa mitica zona mista, prima o poi vorrei frequentare una zona mista durante gare di atletica perché ormai per me è un luogo mitologico. Quello che mi ha colpito è la presenza di spirito perché insomma io seguo anche abbastanza gli altri sport, in primis il calcio diciamo. Ciò che difetta secondo me, questo è un problema serio penso, sono la capacità di ironizzare, di autoprendersi in giro e la lucidità nel racconto delle prestazioni, delle fatiche, vittimismo zero devo dire. Quasi mai in queste Paralimpiadi mi ha colpito anche questo, cioè non c'è praticamente mai vittimismo rispetto al... raccontano della fatica certo, ma parlano del lavoro fatto per arrivare fin lì. Non so se hai avuto la stessa sensazione. Io sì, assolutamente sono completamente d'accordo con te, tra l'altro io un'altra cosa che non amo particolarmente sono gli alibi e che molto spesso ascoltiamo in diverse mixed zone, come viene chiamato. Ora abbiamo, durante Campion ho cercato di raccontare che molto spesso gli atleti, noi degli atleti vediamo soltanto la gara e quindi non sappiamo tutto quello che c'è stato dietro, lo sforzo, le difficoltà, in particolar modo anche, se vogliamo, quei momenti in cui tu non sei al 100%. Faccio l'esempio quest'anno di Jacobs. Jacobs è arrivato alla finale dei 100% in condizioni fisiche non perfette, Tamberi lo stesso. Diciamo che questo è stato visibile, poi ci sono tante cose che noi non sappiamo e che se gli atleti non vogliono dire, sono liberissimi di non farlo, ci mancherebbe, ma la cosa peggiore è ascoltare una lamentela, un alibi da chi comunque ha dato il suo, ha fatto il suo. Nessuno può banalmente incolparti se non hai fatto il tuo, lo sport è soggetto a critiche e quindi come tali vanno accettate anche quelle. Qui invece siamo davanti all'esatto opposto, il rovescio della medaglia, come dice appunto Campeon. Cioè l'assoluta tranquillità nell'analizzare una prestazione e il saper sorridere, veramente. Io anche davanti a un evento, se vogliamo, difficile da gestire, perché adesso mi viene in mente una delle gare più iconiche delle Paralimpiadi, è stata la finale dei 100 metri femminili dove stavamo per compiere la tripletta, oro, argento e bronzo e poi è successo un patatrack che purtroppo capita e quindi è capitato e una nostra atleta è finita addosso a un'altra atleta per chi non l'avesse visto e è successo che abbiamo raccolto un oro e un bronzo. E tra l'altro, assurdità nell'assurdità incredibile di quella gara lì, diciamo, viene poi attribuito il bronzo anche all'italiana perché scivolando mette il braccio e arriva, quindi diciamo che anche di questo genere di cose è pienissima, anche questa edizione in particolare è stata piena insomma. Sì, sì, è stato un esito dolce amaro quello della finale dei 100 metri femminili dell'atletica, però è stato gestito nel dopo, io ho visto le interviste, sì c'era dispiacere perché soprattutto per la caduta di Ambra Sabatini che ha ostacolato Monica Contraffatto, era dispiaciuta chiaramente perché ha danneggiato la sua compagna di squadra e non è riuscita lei a vincere una medaglia. Però la leggerezza, la bellezza di queste dichiarazioni, di questa serenità anche, come se fosse una festa e alla festa si può partecipare, ma si può anche essere soltanto diciamo una piccola parte, non essere proprio i protagonisti al 100%. Poi ovviamente ci sono anche i protagonisti quelli con la P maiuscola, allora io come al solito parto, e qui lo dico anche qui per partigianeria, da una piemontese, da un'altra piemontese, ne hai facoltà assolutamente. Mi dispiace ma su questo non transigo, anche se le mie origini non sono proprio 100% piemontesi. Anche perché Danilo se lo merita assolutamente. Assolutamente, assolutamente. Elisabetta Amino, Moncalieri, 10 gennaio 1986, condividiamo anche il giorno di nascita, non l'anno purtroppo, ha vinto la medaglia d'oro ai Paralimpici nell'arco Ricurvo, era già un atleta, aveva già partecipato per la nazionale, diciamo dei normodotati per l'arco in diverse manifestazioni mondiali, mi sembra europei, ha vinto, ha vinto in coppia, una finale veramente emozionante, mi sembra contro la Turchia se non ricordo male, ma soprattutto dopo si scopre la storia di Elisabetta Amino, è una storia un po' particolare perché comunque lei è di Trana, è un piccolo paese della Val Sangone che conosciamo, insomma per chi è stato, insomma chi va sui laghi di Avigliana conosce un po' la zona, lei è paraplegica a causa di un incidente automobilistico dell'età di 5 anni e ha iniziato a tirare con l'arco verso i 10, io poi mi sono un po' interessato alla storia più che altro perché ho scoperto il mestiere, anzi la professione che Elisabetta Amino fa, compie durante i suoi giorni diciamo normali, e lei ha studiato medicina e chirurgia all'Università di Torino ed è specializzata in ortopedia e traumatologia e lavora al CTO di Torino e fa la chirurga, è chirurgia della mano e quindi stiamo parlando di una persona che fa un lavoro importantissimo che riesce a ritagliarsi del tempo per, lasciatemi dire, fare sport e poi va alle Paralimpiadi e vince una medaglia. Cioè io voglio dire che sarebbe bellissimo fosse la normalità, però non è normale, credetemi. Io penso che ci sia uno sforzo supremo per fare una roba del genere, cioè anche solo per partecipare, non dico vincere, ma partecipare a un evento così. Vincere poi è ancora più bello diciamo, ma veramente Elisabetta Amino mi ha tra virgolette sconvolto perché è veramente un chirurgo, io quando ho letto chirurgo e ho letto la sua biografia e tutto ho pensato subito a Enzo Iannacci, devo essere sincero, però Enzo Iannacci non andava alle Paralimpiadi e non andava neanche alle Olimpiadi. Però insomma come figura mi sono immaginato un uomo che dedica la sua vita a una medicina e poi a un'arte e in questo caso allo sport ed è stata una roba veramente incredibile. Enzo Iannacci un atleta della canzone con le sue scarpe tennis qua diciamo l'ho presa proprio diciamo facile facile ma insomma chiunque sarebbe riuscito. Ma intanto stiamo raccontando storie, il tempo scorre ma abbiamo anche da raccontarne un'altra perché sinceramente dentro la mia trasmissione in queste ultime due settimane ho parlato di lui molte volte perché sinceramente lui mi ha veramente portato in un'altra dimensione. Che vedevo di ci sono troppi disabili ma insomma io sono qui con questa medaglia pesante e la faceva tra l'altro soppesare a tutti perché insomma era il suo giocattolo e che ha una storia altrettanto incredibile ma quello che mi ha colpito questa volta è la posso dire la purezza insomma nel 2024 si può parlare ancora di purezza, di trasparenza anche di dolcezza e anche di menefreghismo rispetto alle voci incredibilmente stupide che sono ovviamente si sono accese intorno anche a questo meraviglioso uomo, ragazzo uomo che vince l'oro nel lancio del disco. Danilo. Allora stiamo parlando, lei come lo ha introdotto benissimo, di Rigi Van Ganesha Morty ma per tutti ormai Rigi. Io credo che sia un mito, cioè veramente. Allora partiamo dalla storia della finale, dalla storia della finale del lancio del disco in cui lui assolutamente io non ero al corrente di questa cosa, lui partecipa sia per peso che disco che giavellotto, cioè lui ha fatto tutte e tre le specialità, non so se alle Paralimpiadi ma comunque in questo caso era con il disco. Sono rimasto basito dal fatto che un atleta non considerato tra i favoriti sia arrivato alla finale e abbia fatto tre lanci uno in fila all'altro migliorando il record del mondo. E questo già è una roba che dovrebbe già bastare potremmo anche chiuderla qui. Poi ovviamente il discorso va oltre perché lui vince la finale e poi ovviamente, dico ovviamente perché altrettanto ovviamente, diventa un personaggio davanti alle telecamere con la sua spontaneità. Con la sua spontaneità, col suo essere banalmente lasciami dire, ma lo dico ovviamente col sorriso sulle labbra, romano, cioè molto romano. I romani hanno questa grandissima capacità di prendersi in giro, di saper ridere, scherzare, di tutto. Credetemi, la vita di Rigivan non è stata facile, ha avuto e ha dei problemi gravissimi di salute ovviamente, legati alla sindrome di Guillain-Barré da cui è affetto e poi ha una caduta che ha aggravato la sua situazione fisica nel 2019. Ha giocato a basket in carrozzina, ha fatto scherma in carrozzina e poi si è lasciato prendere dall'atletica e quindi peso, disco e giavellotto. Il suo oro è quello meno atteso probabilmente, ma il più puro, lasciatemi dire, il più divertente anche perché poi comunque qua io lo dico proprio apertamente, ma questo ragazzo dovrebbe fare, insomma, non dico il comico, ma comunque riuscire a portare la sua voce anche magari parlando di disabilità in maniera diversa, in maniera trasversale. Lo ha fatto davanti alle telecamere rivendicando innanzitutto una cosa, la sua italianità, anche perché se lo sentite parlare, veramente, cioè se chiudiamo gli occhi sembra di stare veramente a Trastevere o giù di lì, ma comunque in ogni caso il personaggio è stato un personaggio trascinante, bellissimo. Io sono rimasto veramente, ho risentito più volte quell'intervista e soprattutto questa cosa del pesare, far pesare, far soppesare la medaglia agli altri, i giornalisti che lo intervistavano. È stato un momento molto, ripeto, puro. Forse ecco, forse allo sport, quello che seguiamo tutti i giorni, mancano queste mancanze, questi difetti, lasciamogli dire. È un difetto quello di non saper scherzare, di non saper ridere, di non saper valutare anche banalmente una prestazione sportiva. E probabilmente la differenza sta tutta qui. Rigivan insegna qualcosa, davvero, davvero. Ed è bello poter, sarebbe bellissimo poter fare una chiacchierata. Io spero che tu ti metterai in moto in qualche modo. Guarda, se ti posso dire, stavi quasi leggendo nel mio pensiero, cioè devo dire una cosa, insomma, queste sono cose che non dico mai all'interno della mia trasmissione perché non mi sembrano particolarmente rilevanti. Ma in realtà la settimana scorsa, quando in una delle diverse puntate di almeno due pagine al giorno, ho parlato di Rigivan Ganesha Murthy citandolo, citando articoli che parlano di lui. L'ho anche taggato, diciamo, sui social network e lui in realtà ha ricondiviso questa storia, come dire, come io non mi sarei mai aspettato, diciamo. Per cui, diciamo, è una cosa molto piccola e lì l'ho cercato perché, sono ancora in attesa di risposta, ma l'ho cercato perché mi piacerebbe molto, come dire, poter realizzare una chiacchierata, una conversazione con lui. Ovviamente tu sei invitato, se dovesse mai succedere una cosa del genere, perché sarebbe davvero bellissimo, insomma, anche raccontare anche dal vivo quel soppesare la felicità, perché sentire il peso della medaglia d'oro credo che sia quello, insomma. Dentro quella medaglia c'è la fatica, ma c'è anche il peso specifico della felicità, per cui poi gli occhi, gli occhi di Rigivan Ganesha Murthy sono occhi veramente meravigliosi. Posso dire una cosa al volo perché so che siamo in chiusura? Esatto, nel patetico. Io voglio solo chiudere con questa frase e poi ti lascio. Le Paralimpiadi hanno consegnato all'Italia tantissime vittorie, ma queste vittorie devono far sì che prosegua l'impegno quotidiano per arrivare a vincere le Paralimpiadi dei diritti e la disabilità, e non solo la disabilità, ha bisogno di diritti. Questo per una nuova cultura sulla disabilità. E su questa chiusura fondamentale e preziosa io ringrazio Danilo Baccarani per essere stato con noi. Danilo, grazie davvero. Vi invito ancora una volta a recuperare, campeon, l'altra faccia della medaglia, il racconto di storie meravigliose di Olimpiadi sia su YouTube, sul nostro canale YouTube, ma anche su Spotify. Danilo, grazie ancora e speriamo di incontrarci presto. Io vi saluto. Grazie a voi, grazie a te. Io vi saluto.